Quello che speravamo non si verificasse purtroppo sembra sempre più concreto, ben ritrovati, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, Lopeteghi è sempre più vicino al Milan, pista caldissima, pista bollente che è iniziata a inizio anno con gli incontri, il primo a Milano un martedì sera con Moncada, poi i contatti anche con Furlani, fino ai recenti con Cardinale che pare abbia dato il proprio benestare, così come Zlatan Ibrahimovic, cosa che mi lascia davvero a bocca aperta, spero non sarà così, ma ovviamente se verrà scelto Lopeteghi si dirà anche Ibra ha voluto Lopeteghi, cosa che in realtà sarebbe sicuramente molto forzata. Attenzione perché sembra, siamo di fronte a una svolta importante per il Milan, svolta che porta Lopeteghi come prossimo allenatore del Milan, lui dalla preferenza al Milan, al momento, nei giorni scorsi comunque in contatto al presidente del West Ham, però aspetta di trovare l'accordo con il Milan, sempre che questo accordo non sia stato già trovato, io sapevo di una base di accordo per un biennale, opzione per il terzo, 4 milioni a stagione. Sarebbe secondo me una scelta folle, però ecco rispetto alle inscrizioni questa mattina siamo a notizie più concrete, quindi non spiffer ipotesi, siamo a notizie sempre più concrete sulla possibilità che Lopeteghi possa diventare il prossimo allenatore del Milan, dalla prossima stagione chissà per quanto, non dico che durerà poco, però io credo che possa durare anche poco, non lo vedo davvero l'uomo giusto e nessuno, nessuno lo vuole al Milan di tifosi, quantomeno di opinione pubblica e sai, una società non deve ascoltare per forza il parere dei tifosi, ma neanche prendere uno che nessuno vuole, ecco, questo secondo me è il punto. Di temi che ne pensate, ripetiamo Lopeteghi-Milan, purtroppo sembra esserci una svolta molto vicina, commentate, lasciate un like e iscrivetevi, grazie. Lopeteghi? Flopeteghi? Nopeteghi? Insomma, anche il cognome, poverino, questo non c'entra nulla, ma si presta a tante correzioni. Un abbraccio.